Studenti valvernesi dell'Ite Severi in partenza per il dodicesimo anno consecutivo per Corning negli States a rinnovare il gemellaggio tra le scuole e tra i due comuni. La migliore esperienza scolastica e di vita possibile ancora li accompagnerà in questa vacanza studio da giovedì prossimo, giorno del volo di andata. Questa è sicuramente la modalità per eccellenza direi. È ovvio che è una grande opportunità, non tocca a tutti, quindi io spero che sappiano veramente cogliere fino in fondo quello che sta per accadere loro perché ritengo che sia una gran cosa, perché permetterà loro di vivere, di vedere uno stile di vita diverso, di vedere abitudini diverse, di confrontarsi e anche appunto di riflettere su come invece la loro vita è qui, con il loro stile di vita. È un'esperienza unica e indimenticabile. Io ancora ho ragazzi che hanno già finito l'università, che ancora mi telefonano e mi domandano, mi chiedono di salutare loro gli amici americani con i quali sono rimasti in ottimi rapporti. Spesso succede che durante l'estate alcuni nostri studenti vanno con la famiglia negli Stati Uniti e vanno a Corning a trovare quelli che per loro sono rimasti il loro babbo e la loro mamma americana perché il rapporto dato anche dal gemellaggio delle due città non è quello di accoglienza così per fare, è un vero e grande rapporto di amicizia, diventano parte della famiglia americana. Questo appunto, come dice il sindaco Villegiardi, rinnova anche il gemellaggio tra i due comuni. Questo è un bel rapporto, è un bel progetto di gemellaggio che va avanti ormai da tanti anni e che è naturalmente rafforzato dal rapporto fra le scuole. Il livello istituzionale è un livello che ancora prosegue con scambi e relazioni che sono sempre un po' più difficoltose, però ogni anno la presenza dei nostri studenti a Corning e di ritorno degli studenti di Corning qui a San Giovanni è l'elemento centrale del gemellaggio che c'è fra le nostre città e un po' questi ragazzi saranno i nostri ambasciatori, saranno quelli che porteranno il saluto anche alle istituzioni scolastiche e cittadine di Corning. Ed ecco il preside Lorenzo Pierazzi che riesce a scherzare sulle effettive opportunità per le nuove generazioni scolastiche e del resto un viaggio del genere non è certo abitudine. Allora ho rivisto chi con me ha condiviso l'esperienza Erasmus lo scorso anno a Praga, ad ottobre partiremo sempre con i ragazzi del tecnico economico per Budapest e il tutto proseguirà anche con gli stage linguistici sia in lingua inglese che in lingua francese, oltre alla proseguizione di questo Erasmus che ci porterà di nuovo in Spagna e in Turchia e all'attivazione di ulteriori passaggi. Lo dicevamo con il sindaco di San Giovanni Valdarno, abbiamo vissuto la nostra adolescenza da compagni di scuola, effettivamente iniziative del genere non potevamo neanche immaginarle. Almeno io, che ho giusto qualche anno meno di voi, insomma anche per me non era possibile. Insomma, questo insomma... Non più di due o tre anni. Ecco, non più di due o tre anni. Detto questo, però, a parte tutto effettivamente è veramente un motivo di orgoglio e noi dobbiamo, noi che abbiamo la fortuna di guidare questi ragazzi, dobbiamo avere molta attenzione per loro e quello che è importante, è stata molto significativa anche la presenza del sindaco perché ha ribadito che loro sono ambasciatori non soltanto della loro scuola dell'Iteseveri, dell'Isis Valdarno, ma dell'intera comunità di San Giovanni Valdarno.